Con il tatuaggio si possono coprire smagliature, cicatrici sia di intervento che da incidente, ustioni. Noi lavoriamo su questo tipo di tatuaggi da molti anni e i risultati sono ottimi. Non su tutte le cicatrici e ustioni si può sempre lavorare e soprattutto sui cheloidi non è permesso lavorare. Riusciamo ad avere degli ottimi risultati con quasi tutti gli stili del tatuaggio. Tante volte è l'unico modo per risolvere definitivamente il problema.